Video sorpresa ragazzi, oggi parliamo anche di Monster Hunter Now, la pre-registrazione su Apple Store e sul Play Store è già aperta e il gioco verrà rilasciato ufficialmente, secondo appunto la data che ci è stata fornita, il 14 di settembre quindi anche tutti coloro, me incluso oltretutto, che non sono riusciti a scaricare in anticipo il gioco provandolo nella Closet Beta ripeto, me incluso, purtroppo dovranno aspettare fino al 14 di settembre, però potete già andare nell'App Store o nell'App Store e prenotarvi perché sto facendo questo video? Molto interessante, no? Allora, sto facendo questo video perché è stata rilasciata questa live che vi lascerò in descrizione di 34 minuti dove loro parlano un po' del gameplay di Monster Hunter Now, fanno vedere un bel po' di cose soprattutto fanno vedere parte della caccia proprio è molto interessante, è anche meglio di quello che pensassi, in realtà io pensavo che sarebbe stato molto più hack and slash, spam vero, meaningless un po' come ovviamente sono i raid di Go, che non è che hanno nessuna componente particolarmente difficile, ecco e chiaramente parte di quelle cose lì viene da quello, per chi ha giocato a Pokémon Go lo saprà però in realtà hanno aggiunto dei twist molto interessanti, quindi io riporto il video all'inizio oltretutto la mia camera utilizzerà la tecnica segreta del rimpicciolimento e ne andremo a parlare insieme eccoci qua, allora non voglio nemmeno mettere troppo, come devo dire questa qui ve la potete vedere in esteso, vi farò, salterò qui e lì per vedere gli highlight insomma questa è la presentazione dove fanno vedere, insomma, la collaborazione con Niantic tutte informazioni che sappiamo già, fanno il reveal dei mostri che ci saranno al lancio dopo in realtà fanno anche accenno al fatto che ci saranno anche delle subspecies, ma io immaginavo insomma, i mostri iniziali, il roster iniziale, parte la mostra di Hunter World, io credo che poi partiranno principalmente da quello, ma ovviamente essendo praticamente un game of service di fatti verrà comunque updateato nel tempo, aggiungeranno mostri, classi di armi, attenzione hanno anche specificato questa cosa armi, armature, bla 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 bla, ovviamente questo come ce l'aspettiamo, oltretutto curiosità vostra se non lo sapete, è uno dei producer, è un producer di Frontier quindi chissà che magari riceviamo qualcosa anche da lì, sarebbe interessante comunque, questi qua è il roster iniziale, appunto, l'avete visto, Granjagra, Skulloyoku, Pukei Pukei Barrot, Greatgirros, Ogirros, Tobi Kadashi, Juratotus, Palumo, Anjanath, Rathian, Illegiana, Radalos e Diablos quindi ripeto, Monster Hunter World proprio, perché parte proprio da quella roba lì di fatti questo gioco ha 4 anni di sviluppo, e lo sviluppo infatti è iniziato verso la fine di World ormai sono passati tanti anni, eh, fill all diet comunque si, fanno vedere, fanno vedere comunque un po' di cose, fanno vedere le impostazioni potete creare il vostro Hunter, avete la lista amici, potete modificare le cose comunque questa roba qui è simile anche a Monster Hunter proprio, cioè potete craftare armi e armature questo è quello che hanno detto, ovviamente uccidete la roba, ottenete i materiali alcuni materiali sono nell'overworld, altri materiali invece li ottenete semplicemente dalle cacce ed è un po' la Pokemon Go, quindi andate in giro per il mondo appaiono robe, cliccate sulle cose sullo schermo, iniziate le fighter, collettate oggetti eccetera chiaramente dopo faranno vedere che si può giocare da soli o anche multiplayer fino a 4 giocatori contemporaneamente contro lo stesso Monster, sono stati fedeli al gioco originale e ogni caccia dura al massimo 75 secondi quindi sarà high pace, ci sta perché chiaramente è un gioco che deve essere giocato on the go però effettivamente è così ora voglio portare subito avanti la discussione perché tanto questa parte qui non è importante, ve l'ho già spiegata io in super riassunto qui fanno vedere appunto la mappa di gioco ovviamente questo qua è sempre la classica da Google skinnata potete vedere che c'è lo shop beh chiaramente ragazzi aspettatevi che questo gioco avrà microtransazioni ci sarà un sacco di roba premium è ovvio che sarà così cioè lo voglio mettere subito questo presupposto non illuditevi che sarà free to play e non ci saranno feature ci saranno feature premium 100% cioè non ho proprio dubbi ok su questa cosa quindi accettatelo probabilmente sarà un po' come go che poi puoi comunque raggiungere gli stessi risultati semplicemente non pagando ci metti 100 volte di più probabilmente sarà una roba così probabilmente faranno gli eventi stagionali e bla 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 beh zenni vedete qua le ricompense delle cose carine comunque le icone come l'hanno fatte e le ricompense per finire la quest eccetera eccetera andiamo avanti vedete che qui ci sono che carin palico potete iniziare una caccia sola adesso la fanno vedere anche dopo qui parlano di come appunto il gioco sia comunque con pochi input principalmente tap ok tap hold con gli swipe utilizzati dodge e poi ci sono appunto dei tasti a schermo vedete che c'è il tasto per le pozioni il click centrale è un'azione speciale che io poi mi aspetto che queste robe qua verranno espanse nel tempo magari sono un po' come i generations magari delle swappi magari le aggiungeranno di nuove e ovviamente come potete vedere è fortemente ispirato a monster hunter world oltretutto dopo le fanno vedere le demo delle armi che sono anche pronte nel loro canale i mostri si hanno gli hp si possono vedere a schermo ma ci sta un gioco più aghi hanno però le parti come dicevo gli hp delle parti sono nascosti quindi dovete fare anche qua part break immagino che sarà un fattore rilevante soprattutto per ottenere materiali rapidamente non è come monster hunter normale questo qui probabilmente farete veramente con ogni caccia conta perché tecnicamente i mostri sono loro stessi una risorsa limitata ora rimetto un attimo al volo la velocità del video a 1x così vi faccio vedere insieme al volo le armi partiranno con 6 classi ma ripeto le aggiungeranno altre nel tempo e appunto il moveset è quello di ward però appunto potete vedere tranquillamente tra di voi quando il mostro diventa rosso è perché sta per eseguire un attacco questo l'hanno spiegato prima l'azione speciale qui è la perfect rush che anche qua ha bisogno degli input ritmati e fanno molto più danno ovviamente le arti fanno molto più danno qui ci confermano anche che abbiamo danni elementali a quanto pare io immagino che sarà un po' differente da come funzionano i mainline nel senso che probabilmente sarà tipo solamente un bonus che vi guarda l'intera arma però questo lo vedremo true charge slash ovviamente per la great sword per le bogan sono un po' più curioso perché da quello che si vede qui praticamente in realtà cambia lui le munizioni vedi che c'è una serie di set di munizioni tra cui cambia sarà da capire un po' come funziona e qua fa l'esplosione immagino che la bogan sarà molto forte anche in questo gioco io ho questa sensazione e poi abbiamo la longsword come vedete da qua c'è quella di topi cadaci questo è l'effetto figo dell'evasion c'è anche la piccola barra spirito la longsword che però vi porta direttamente alla barra rossa e ovviamente lo spacca elmi che oltretutto fanno subito vedere che fa più danno del true charge immediatamente vabbè è anche vero che ha un requisito dietro in questo caso vediamo che ci sono gli status normali in realtà lo faranno vedere anche dopo perché si vede il martello di gran giros quindi comunque il gameplay classico dimostrante in realtà è tutto qui poi ovviamente i comandi sono semplificati ragazzi cioè la loro chiave è che deve essere giocabile da tutti e deve essere giocabile praticamente solo con un dito ok anche se appunto armi come l'arco sembrano un po' più complesse e probabilmente vedremo l'unica volta nella serie in cui il dragon piercer è effettivamente una mossa più forte degli attacchi normali sarà molto interessante da vedere questa cosa ora rispediamo nuovamente il video ok queste qua sono le armi spade scudo, spadone, spada lunga, martello, balestra leggera e arco chiaramente le altre classi le aggiungeranno con l'avanzare del tempo e sarà un grande evento probabilmente chissà quanto sarà grandoso immagino che il grind sarà a livello sì perché chiaramente quel tipo di gioco lo obbliga ok altrimenti tutti lo tra virgolette finirebbero troppo presto questa è una meccanica interessante che spiegano subito questa meccanica non la potete vedere c'è scritto paintball da qui ok praticamente quello che potete fare quando voi andate a cliccare su mostro che è nell'overworld oltretutto vi mostra le debolezze varie eccetera quello che potete fare è oltre a fare appunto torno leggermente più indietro così vi faccio vedere l'intera clip oltre appunto ad affrontarlo immediatamente da soli o con un gruppo e quando fate l'invito di gruppo invita automaticamente tutti i giocatori a 200 metri da voi oppure potete invitare i vostri amici chiaramente avete una terza opzione che è appunto quella di utilizzare le paintball ok qualcosa fanno le paintball essenzialmente vi salvano il mostro e poi potete affrontarlo da casa vostra o comunque ovunque voi siate sarà ovviamente un oggetto importantissimo e questo io già mi aspetto che sarà al 100% un oggetto premium che è di quelli lì che perché è troppo più efficiente farsi tipo il giretto a parte se non siete magari in un gruppo proprio di persone che poi spero riusciremo a organizzare oltretutto di tanto in tanto collettare appunto tutte quante le cose i mostri probabilmente è molto più efficiente per farli tutti insieme a rotazione è ovviamente un oggetto super 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 forte che probabilmente sarà anche premium perché io mi immagino che potremmo ricomprarli in modo premium queste cose qua quindi se lo potete salvare lo potete rigiocare più tardi queste poi fanno vedere l'esempio di una caccia appunto una caccia multiplayer comunque ripeto non voglio nemmeno troppo scendere nei dettagli perché potete tranquillamente vedervi poi il gioco direttamente da voi non serve nemmeno che questa live ve la faccio vedere io altrutto perché parlano tanto se avete delle curiosità più specifiche sui loro pensieri oltre quello che vi sto semplicemente dicendo io potete andarvela a vedere tanto ripeto ve l'ho linkata in descrizione un po' lunghetta quindi vi consiglio di spittarla tanto parlo in giapponese dovete solo leggere e qua si vede appunto un altro esempio tipo c'è il pukai pukai qua avete appunto c'è il painball il numero di mostri pembellati gli oggetti il gruppo di amici il livello del cacciatore c'è l'hunter rank l'equipaggiamento sembra che comunque sia una gear progression quindi come Monster Hunter Classico cioè non è che avete dei livelli personaggio avete più livelli con l'equipaggiamento che avete dato un po' come Monster Hunter ok quindi appaiono i mostri vedete che ci sono i materiali che stanno in giro appaiono potete andare lì potete cacciare i vari mostri appunto e qui niente qui fanno vedere questo e poi fanno vedere fanno vedere anche tipo sì la mappa dall'alto vi consente di spottare appunto i minerali minerali erbe mostri piccoli anche ci sono vediamo un po' qua che altro si vede si vedono dei mostri grandi che oltretutto hanno delle stelline quindi vedete che il tipo c'è il Grad Jagras con 3 livello 3 ma c'è anche quello di livello 5 questo è sì quindi in base anche al livello del monster che affrontate sarete più o meno avvantaggiati immagino che in realtà al solito sarà più efficiente giocare sempre in gruppo specialmente probabilmente all'inizio e se non volete essere giocatori che pagano probabilmente sarà così qui fanno vedere anche un esempio appunto del fatto che la gear si può upgradare secondo i materiali appunto soldi più bla 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 vi dà la skill più salite di livello appunto fanno proprio vedere il gear progression che questa qua è una cosa che chiaramente ci aspettavamo tutti quanti e meno male che appunto c'è chiaramente il monsterante ribasato praticamente interamente su questo e quindi niente quindi in realtà fanno vedere un gameplay che in realtà io ripeto ragazzi sono molto contento sono molto convinto mi aspettavo di meno in realtà sotto il punto di vista del gameplay dopo se lo vedete con calma in realtà vedete che c'è anche dell'adapt perché potete tranquillamente fare i moi il gioco vedete che non è a parte che io vabbè ho spedato il video fatemmelo rimettere a velocità 1x anche a velocità 1x vedete che il mostro non è lento c'è la velocità di attacchi del mostro eccetera è monster hunter ok quindi nel senso hanno cercato di replicare il più possibile l'esperienza originale l'esperienza originale del gioco chiaramente con tutte le limitazioni e semplificando quello che potevano semplificare perché la caccia deve durare comunque 90 secondi però ovviamente ci sono tutte le fasi il mostro c'è la rage eccetera vi prende vi fa danno un bel po' di danno poi quindi non è manco che potete incassare troppi colpi ma tanto chiaramente su questi qui gli highlights non saranno nemmeno i mostri che troverete in giro saranno i mostri quelli lì che effettivamente poi saranno il corrispettivo dei raid quindi immagino gli draghi anziani e le sub e le rare species insomma quando uscirà tipo il solito devil vedremo questi qua oltretutto perché sto replayando questa clip perché volevo farvi vedere che le balestre appunto hanno i proiettili elementali di tutti i tipi quindi dipendente le balestre funzioneranno come anche l'arco ovviamente funzioneranno in realtà come le armi da milì appunto su questo senso qua e sembra che ciclino in automatico questa cosa devo chiaramente capirlo una volta che poi il gioco verrà verrà rilasciato e avremo più informazioni c'è un sistema di rating con le varie ricompense vabbè insomma quindi questo è quello che sapevamo ripeto uscirà per tutto il 14 settembre quindi dobbiamo aspettare la fine dell'estate quasi no vabbè sì ormai l'estate è finita tra virgolette meglio perché io mi sto già cuocendo io sto prendendo 550 insolazioni quindi da una parte anche meglio e quindi niente ragazzi in realtà questo è quello che volevo farvi vedere oggi io onestamente ripeto sempre la prima volta è stato un po' what poi mi aspettavo di meno adesso questo mi ha già mi ha già rincuorato chiaramente raga è un tipo di gioco particolare non è Monster Hunter Classico quindi ancora una volta non vi aspettate l'esperienza di Monster Hunter Classico che continuerà a uscire per un console questa roba qui ve lo dico da designer andrà e farà miliardi di euro perché in Giappone andrà da dio perché mobile gaming è un'industria immensa e questo prodotto comunque rispetto a tanti altri giochi mobile sembra comunque di essere di alta qualità Capcom e Ryozo qui in questa intervista ha specificato più volte che il gioco è stato sviluppato in cooperazione e che appunto ci hanno messo effettivamente l'impegno che ci hanno messo ma del resto se no non sarebbero usciti in quattro anni perché ricordate sono usciti in quattro anni con tutto che già le tecnologie le avevano quindi effettivamente hanno messo dell'impegno dei soldi e della tecnologia dietro per far succedere questa cosa qua io voglio sperare bene perché comunque è sempre un prodotto in più e sarebbe divertente appunto fondere le due cose poi quanto andrà in Italia non ne ho la minima idea probabilmente come per Pokemon Go dipenderà anche molto dalla città in cui viviate però io non voglio escludere che ci sarà un'onda immensa di persone che torneranno a giocare o vedere in giro che cacciano mostre sarebbe veramente figo avere di nuovo questa esperienza dico di nuovo perché è chiaramente quello che è successo la prima volta con Pokemon Go quindi ragazzi niente grazie mille di aver visto questo video se avete opinioni qualsiasi altra cosa scrivetelo nei commenti che sono veramente curioso e soprattutto ditemi se lo andrete a giocare o almeno se lo volete provare bella ragazzi e noi ci vediamo alla prossima ciao